Questo è l'avo di pasta che mi ha regalato Angelo. Ora vi faccio vedere come il teatro mette l'avo di pasta. Ora apriamo la sorpresa di Sierre e vediamo che cosa c'è. Ma il rumore è vuoto, era la testa di Angelo o l'uovo? Guardate Francesca attiva un quarto d'ora per aprire la sorpresa. E' arrivata Chiara? Due cervelli all'opera? Ti prego pubblica sto video. E' calma, due ne fanno una, ma neanche. Da te lo sbaglio e da te le dita. Cretine sui e-cational channel. Come se è una verità. C'è un buono, piccolato. Ce la sta facendo, ha fatto uno scatto. Sì, ma sta sto prima, nera, vedi. Amore, ti permette mi a spiegare una cosa del genere, eh? Ti ho fatto prima le concorso. Sì, no, no, sì! Un vibratore!